Nella sala argento dell'ingotto Fiere, l'Accademia Albertina ha presentato la sua attività artistica, vera eccellenza della cultura piemontese, prodotta anche con l'aiuto della consulta regionale dei giovani, con la quale sussiste un protocollo di intesa rinnovato annualmente. Il presidente Fiorenzo Alfieri e il direttore Salvatore Bitonti hanno illustrato l'attività internazionale connessa con l'Expo 2015 e con Torino, città europea dello sport 2015, che porterà le migliori accademie del mondo in una convention a Torino. Sono stati anche illustrati il bando Art Deco, l'ecologia nel tuo spazio, borse di studio bandite con la consulta e l'innovativo progetto per la valorizzazione artistica del cantiere di Via Lagrange 12, angolo via Giolitti.